Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Bergoglio torna a insistere nella difesa delle ragioni della pace contro la guerra in Ucraina, senza difendere né l'Ucraina del guitto Zelensky né la Russia di Putin, senza abbracciare le ragioni di una parte a documento dell'altra, semplicemente ribadendo una cosa ovvia, scontata e banale, ma che nell'epoca della menzogna universale è bene ribadire come ha fatto Bergoglio in questo caso, cioè il fatto che bisogna lavorare per la pace. Ora Bergoglio almeno sotto questo punto continua a essere nel vero, dirò di più, come un orologio fermo segna per Accides due volte al giorno l'ora giusta, anche Bergoglio che su tutti i punti nodali della dottrina cattolica sembra essere ormai completamente aderente a un post cristianesimo, a una neochiesa liberal progressista, almeno sul tema della guerra difende una posizione di buonsenso che è quella della pace contro la guerra e sotto questo profilo bisogna dire, parafrasando l'Aristotele della metafisica, che Bergoglio sembra un sobrio in mezzo a molti ubriachi, era quello che Aristotele diceva di Anassagora rispetto agli altri cosiddetti fusiologo, gli indagatori della FUSIS. Ebbene Bergoglio sta in effetti difendendo le ragioni della pace da tempo, addirittura ricorderete disse che questa guerra era stata causata dall'abbaiare della Nato ai confini con la Russia, una frase forte che coglieva nel segno, e sotto questo profilo vogliamo dargli atto del fatto che è una delle poche voci che dicono le cose come stanno su questo tema. Papa Bergoglio direbbero alcuni, ma chi ha letto il mio libro La fine del cristianesimo sa che Bergoglio dal mio punto di vista non è il papa, da che il papa rimase fino alla fine Josef Ratzinger, cosicché la sede di Roma è vacante dal 31 dicembre 2022 e Bergoglio non è mai stato il papa, nemmeno per un secondo della sua vita.